Io sono una piscina retro del cerestrello e in uno di questi c'è questo pancino sono mestre vidalli Bellisomi 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 Siamo nel bellissimo parco del centro Canorrione di Montebello Siamo nel bellissimo parco del centro Canorrione di Montebello l'Italia dentro la fontana il meraviglioso cedro del Libano ecco il centro bellissimi alberi che spettacolo è immenso panoramica 360 gradi rete negli con il nostro colloquio dell'Italia l'umore La Torre del Castello 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 La Torre del Castello